Ciao cari amici followers Reisner Reisner La tua Nate Nel video di oggi vi parlo di un caso che... Beh... Marzo 2000-2017 Ci troviamo in Ohio, nella cittadina di Ohio Natalie Schlette e beh Micah Reisner Formano una coppia come tante Si sono conosciuti e si sono innamorati Ci sono alti e bassi come in ogni relazione E familiari e amici pensano che non ci sia alcun problema grave Fino al giorno in cui succede qualcosa che nessuno dimenticherà mai Sono quasi le nove di sera quando Micah Non posso farlo, sono bloccato qui in macchina Si tratta di una foto che fa gelare la bagno La foto arriva per prima la sorella di Micah, Jasmine Il messaggio che l'accompagna dice Ti prego aiutami, davvero non volevo Non ricordo, stavamo litigando e mi sono svegliato e l'ho trovata così La foto ritrae Natalie nella vasca da bagno Incredibile